Lutto a Palazzo di Giustizia di Sanremo. Lorenzo Purpura, settantenne magistrato andato in pensione lo scorso mese di gennaio, si è tolto la vita stamani intorno alle ore 8. Si è sparato un colpo alla testa con la pistola che deteneva regolarmente. Il corpo ormai privo di vita è stato trovato all'interno del proprio alloggio in via Valle del Ponte, sopra il comando della Polizia Municipale Matuziana. È stata la sua compagna a trovarlo. Di recente il magistrato era parso depresso. Il Consiglio Superiore della Magistratura gli aveva negato la possibilità di restare in servizio, domanda che aveva presentato chiedendo di poter proseguire nell'attività. Lorenzo Purpura lascia la sua compagna e quattro figli. Sul posto per i rilievi del caso è intervenuta la scientifica del commissariato di Sanremo. L'uomo originario di Roma era arrivato in Riviera nel 2005, si era occupato di casi importanti come gli appalti dell'Aslo 1 e della turbativa d'asta legata all'appalto per il broccheraggio assicurativo del comune di Sanremo. Il magistrato era molto ammirato dai colleghi e dagli avvocati, che lo consideravano un gentiluomo, un signore, un uomo giusto. E proprio questa mattina in tribunale all'apertura delle udienze è stato osservato un minuto di silenzio.